E bentornati signore e signori in questo mio nuovo video dove vi svelerò esattamente cos'è per me la street photography. E' una fottutissima bugia. Scusate, i pali nella bocca. Io in realtà volevo iniziare questo video in maniera un po' pirotecnica e volevo andare a trovare tutti quanti quei fotografi che ammiro e dai quali imparo sempre qualcosa di nuovo ogni giorno per chiedergli cosa fosse per loro la street photography. Poi però ci ho pensato un po' meglio e ho creduto più opportuno, visto che sono io a metterci la faccia, iniziare proprio io a dire cos'è per me la street photography. Andiamo un po' per ordine e partiamo da una curiosità. L'unica verità sembra essere che tutti quanti mentiamo. Alcuni studi scientifici infatti dimostrano che nelle interazioni quotidiane mentiamo una volta su cinque. Ci incontriamo per strada, per esempio incrociamo un amico che ci chiede e come stai? E noi sfoggiandogli anche il nostro sorriso più bello gli rispondiamo bene. Ma in realtà stiamo una merda, mai una gioia. E questa è la prima bugia che diciamo. Verità e bugia sono ugualmente plausibili, o almeno finché restiamo concentrati su quello che stiamo dicendo. E sì, perché mentire è veramente un grande sforzo. Dobbiamo fornire cioè degli elementi che possono sembrare veri. Ed è una gran fatica a pensarci bene, così come una gran fatica a essere uno street photographer. E mi devo spiegare un po' meglio. Ci hanno provato un po' tutti a spiegare che cos'è la street photography. Ed ecco perché inizio subito io col dirvi che sarebbe presuntuoso da parte mia pensare di riuscire io a offrire una definizione esatta di che cosa sia la street photography. Vorrebbe dire un po' svelare quello che è l'unico modo per praticarla o ancora elencare tutte quante quelle regole che non ammettono delle eccezioni. E ancora peggio sarebbe ridurre la street photography a una scienza esatta e toglierla quindi dalla schiera delle arti. Quando per me invece la street photography è un'arte, al pari della musica, della poesia, della pittura, della scultura, della danza e dell'architettura. La street photography non ha una ricetta come ce l'ha la carbonara. E anche lì ci sono delle varianti e che Dio li perdoni. La street photography non è la scala pentatonica se parlassimo di musica. Ha qualcosa in più. La blue note, si chiama, è esattamente un cromatismo intonato in maniera lievamente calante. Perché la street photography è qualcosa di gigantesco. La street photography è varia, è emozionale, è assolutamente personale. Perché ha a che fare più con chi scatta che con chi o cosa si sta fotografando. Foglie cadute si raccolgono oppure non si raccolgono. Niente paura che questa non è l'avvisaglia di un ictus. Si chiama Aiku. È una poesia giapponese che serve a porre dei problemi di tifo filosofico agli allievi del buddismo zen. Non sono delle poesie in senso stretto, ma sono delle risposte a delle esperienze di vita che si possono esprimere però soltanto in forma poetica o con una fotografia. I punti di contatto tra le esperienze e le immagini sono più ampi e articolati di quanto si possa pensare. E non soltanto perché spesso alle nostre fotografie facciamo seguire delle diascalie, ma anche perché il fotografo, se non pensa soltanto alla nitidezza, trae ispirazione proprio dal suo stato d'animo. E un esempio in questo ce lo fornisce sempre la filosofia zen, con i koan stavolta, che sono dei problemi posti per meditare. Tutti quanti per esempio conosciamo il suono di due mani che applaudono, mentre invece potremmo chiederci qual è il suono di una mano soltanto che applaude. Ok, qui è permesso imprecare, perché è difficile, lo so, ed è proprio per questo che per me lo street photographer è un artista. Magari non è un artista classico e più contemporaneo, ma rimane comunque un artista al quale richiesta una certa dose di competenze, non soltanto tecniche, ma anche spirituali e filosofiche. Nel mio disco Lettere Scarlatte scrivevo che odio le canzoni, perché ci suscitano delle emozioni che da soli non proveremmo. E lo stesso vale per le fotografie. Sfido tutti quanti, infatti, a guardare un tramonto. Soltanto chi è veramente innamorato se ne inebbria, mentre invece chi è disperato magari si incazza, piange, imprega, oppure si deprime. Ma rimane sempre lo stesso tramonto per tutti. È per questo che la street photography è una bugia in senso stretto, perché non è vera per tutti, o meglio, non è vera per tutti allo stesso modo. La fotografia è una metafora. È una metafora rappresentativa. È l'equivalenza dei pensieri intimi, delle emozioni e della nostra sensibilità, delle paure, ma anche delle nostre angosce. La fotografia di strada dobbiamo intenderla come l'equivalente simbolico della nostra capacità di vedere. E di vedere per davvero, però, quindi non soltanto con gli occhi, ma è anche l'equivalente simbolico della capacità di comprendere quello che abbiamo davanti e di comprendere le emozioni che quello che stiamo guardando ci fa esplodere dentro. Veniamo però al dunque di questo mio discorso e lo voglio fare utilizzando un approccio che mi è tanto caro nella vita quanto nel lavoro. Cambio prospettiva. Cambio, cioè, la domanda per trovare la risposta giusta. Io non mi chiedo più che cos'è la street photography, piuttosto mi chiedo a cosa tende la street, quali sono le motivazioni che ci spingono sempre a scattare, anche se è inverno, anche se fa freddo, anche se piove, e a volte, anche se non ne abbiamo veramente voglia. La street photography è sicuramente un genere fotografico che è legato alla fotografia di viaggio e al reportage, però se ne differenzia, perché la street photography è fatta prevalentemente di istinto, di spontaneità, di proattività, è fatta di pre-visualizzazione. Non me ne voglia nessuno, anche se so che adesso per questo qualcuno si incazzerà, e quindi vi chiedo di commentare sotto subito con molto zucchero, molta panna. Il reportage è una fotografia documentaristica che deve esprimersi sempre con la massima oggettività possibile, deve cioè documentare sempre dei fatti. La street photography invece no. Wikipedia, quando definisce testualmente la street photography o la fotografia di strada, dice che è un genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici, per evidenziare proprio gli aspetti della società nella vita di tutti i giorni. Quindi ogni scatto è un singolo istante della vita dell'uomo ripresa nella sua straordinarietà, e i soggetti sono quasi sempre delle persone sconosciute fotografati nella loro semplicità della vita quotidiana. Quindi potremmo riassumere in maniera molto semplice che la street photography si realizza fondamentalmente con delle fotografie spontanee, quindi non gestite, di persone in strada o in ambienti pubblici. Ma invece no. Perché il fotografo di strada non è soltanto chi gira per strada e scatta muzzo, come diciamo noi in Calabria, facendosi cogliere di sorpresa tutto quello che accade. Perché un semplice scatto fatto in strada, anche se bellissimo, non è soltanto per questo uno scatto di street photography. Perché street photography significa entrare in sintonia con la vita, significa percepirne gli umori, gli odori, i colori, l'intensità, per poi cercare sempre di rappresentarla in tutte quante le sue sfumature, dopo averla però assorbita, interpretata e fatta propria. Pensate ai grandi attori che si sono preparati, che si preparano mesi prima di interpretare un personaggio particolare, o addirittura quelli che rifiutano delle parti nei film. Pensate per esempio a Willie Smith, che è dovuto ingrassare di 20 kg per impersonare Muhammad Ali, o Russell Crowe nel Gradiatore. Sono tutti quanti dovuti entrare nel personaggio, hanno dovuto pensare come quel personaggio, vivere come quel personaggio. E quindi, utilizzando la definizione di Wikipedia, e quello che si sente purtroppo troppo spesso in giro, potremmo definirci tutti quanti un po' street photographer, soltanto perché fotografiamo per strada. Ma di nuovo, vi devo dire di no. perché ci deve essere sempre la voglia e la necessità di raccontare una storia nei nostri scatti. La street photography, per me, non è fatta di fotografie. La street photography, per me, è fatta di storie. E io, sullo storytelling, ci ho fatto un video che vi lascio linkato qui da qualche parte, tanta è l'importanza delle storie nella nostra vita. Ormai è chiaro, no, che io non sia una persona politicamente corretta. E quindi arrivo al dunque. Se c'è una cosa che personalmente odio, sono le etichette. E se c'è una cosa su cui proprio non sono d'accordo quando si parla di street photography, e che invece sento ripetere sempre ad oltranza un po' da tutti, è l'improvvisazione. Ma fidatevi che non ci si può improvvisare nella street photography. Le immagini sono capaci di raccontare uno stato d'animo. A volte sono capaci anche di raccontare più di uno stato d'animo e soprattutto sono capaci di raccontare il nostro che stiamo scattando. E sempre le immagini sono capaci di descrivere un particolare momento in una maniera molto più ricca di quanto non sappiano fare soltanto le parole. E' qui che sta la bravura del fotografo di strada. Per questo motivo, quindi, i veri street photographer non possono essere dei fotografi improvvisati, ma spontanei sì. Anzi, soprattutto i fotografi di strada devono essere spontanei, perché senza la spontaneità non si può parlare di street. E non mi riferisco soltanto alla spontaneità del soggetto ripreso che a rigore, tra l'altro, non dovrebbe neppure sapere di essere fotografato. Io mi riferisco alla spontaneità dello stesso fotografo, cioè la sua capacità di interpretare la realtà. Deve saper cogliere quell'attimo che un attimo dopo non ci sarà più. Davanti ai nostri occhi si palesano verità e anche menzogne che dobbiamo essere scaltri nel catturarli prima che svaniscano e dobbiamo anche essere capaci di raccontarli in tutti quanti i nostri scatti. Questo perché il vero fotografo di strada ha la dote di vedere quello che agli occhi degli altri è nascosto e la nostra missione è proprio quello di metterlo in evidenza. E' fondamentale anche per essere un fotografo di strada la capacità di riuscire sempre a catturare la relazione e l'interazione tra gli elementi nella nostra fotografia. Questo è il senso della fotografia di strada, dove tutti quanti gli elementi sono in stretta correlazione tra di loro, anche se non è una correlazione fisica. Dobbiamo perciò portare a far capire, chi guarda le nostre fotografie, che tra gli elementi presenti nell'immagine esiste un nesso, che può essere un rapporto umano, ma può esistere anche un'interazione tra due persone e un'interazione indiretta tra un soggetto e la città. Dobbiamo imparare a fotografare non soltanto con gli occhi, ma dobbiamo farlo con le orecchie, col naso, col cuore. Dobbiamo essere capaci sempre di ascoltare quello che la nostra sensibilità ci comunica. Quindi, quando cammini in una città, non concentrarti soltanto su te stesso, ma prova ad ampliare i tuoi interessi nei confronti di tutto quello che ti circonda. Svuota la mente da qualsiasi altro pensiero e concentrati sempre e solo sulla città e su chi la abita. Quello che fotografi esiste, è sotto gli occhi di tutti, ma non tutti lo notano perché non tutti quanti sanno guardare davvero come te che hai un obiettivo in mano. E non tutti quanti sono disposti ad ascoltare come te che hai un obiettivo in mano. Non tutti quanti, perciò, sono disposti anche a credere a quello che stiamo raccontando con le nostre foto. Dobbiamo convincerli. Questo è il nostro compito di Street Photographer. Essere un fotografo di strada è un po' come essere punk. Non è un genere. È un modo di vivere. La street photography non è semplicemente lo scatto fatto in strada, ma è quello scatto, quella fotografia, che all'interno ha una storia, che cattura l'attenzione di chi la guarda e che una volta che è stato interrogato si costruisce una propria realtà attraverso tutti quanti quegli elementi che noi abbiamo mostrato. Proprio come fa il musicista con le sue note, lo scrittore con le sue poesie o il pittore con i suoi quadri. Il fotografo dà gli strumenti a chi osserva la fotografia per toccare quelle emozioni che da solo non proverebbe. Ogni scatto di street ci rivela un piccolo mondo e un'eccezione, proprio perché non è uguale per tutti. Ecco perché la street photography non si occupa della verità. Ecco perché la street photography per me è una bugia. È la nostra bugia, che potrebbe però farci riflettere sempre su qualcosa di vero. e infine niente pascolo, niente latte si dice in pubblicità. Questo ve lo dico perché dobbiamo alimentare la nostra fantasia o rimarrà sempre sterile. Dobbiamo imparare a spaziare in dei campi che sono estremamente lontani dal nostro per produrre delle foto che siano sempre nuove. È l'unico modo per scattare 100 fotografie e non 100 volte sempre la stessa fotografia. Questo è quello che almeno provo a fare io ogni volta che prendo la fotocamera in mano. È esattamente il perfetto equilibrio tra quello che conosciamo già e quello che invece ci attira e ci spaventa. Ma non vuol dire però imparare e trovare sempre un nuovo modo di esprimersi ma soltanto la capacità di arrangiare in modo diverso quello che abbiamo già dentro. E non lo dico io, lo dice lei. Ciao e alla prossima settimana. E non lo dico io, ma lei. E non lo dico io, ma lei. E non lo dico io, ma lei.